Il comune di Battipaglia ha definito cattivo condomino con quote pagate dopo nove anni. Prima d'ora la tesoreria municipale, scrive la città, non aveva mai dato un euro a chi amministra i palazzi all'interno dei quali insistono gli alloggi. Le due unità immobiliari sono il vecchio bar di via Gonzaga ed un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Monfalcone. Del primo il comune è responsabile da dicembre 2013 del 2do da maggio 2017. Nel primo caso sono passati quasi nove anni senza che l'amministratore del condominio di via Gonzaga intascasse denaro pubblico, nonostante la quota irrisoria imposta ad un locale terraneo che ospita un bar appena 13,32 euro al mese, poco più di 106 euro l'anno. Più elevata la cifra della casa di via Monfalcone, che affaccia pure su via Plava, la quota mensile è di 54,83 euro. In un anno sono 657,96 euro. Sul finire di maggio scorso, in concomitanza con la ricognizione a cura dei tecnici municipali, dei 16 immobili, che l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ha affidato al comune di Battipaglia, al comune sono arrivate le lettere da amministratori di condominio. Per via Gonzaga, il consuntivo dei canoni mai pagati da dicembre 2013 a dicembre 2021 ammonta a quota 1.189 euro, ai quali vanno sommati 264,10 euro per l'anno in corso, per un totale di 1.454 euro. A Via Monfalcone, il consuntivo è di 1.893,62 euro, copre il periodo compreso tra maggio 2017 e dicembre 2021, con i 658,20 euro, nel 2020 si arriva a quota 2.551,82 euro. Il dirigente dell'ufficio tecnico, Carmine Salerno, ha così disposto la liquidazione dei 4.005 euro necessari a saldare le tariffe condominali dimenticate.